Massimo Vagnone, lei ha sfiorato la vittoria al primo turno a Martinsicuro. Sì, un risultato eccezionale, oltre ogni attesa. Segno evidente che la città si è espressa in modo chiaro sulla volontà di cambiamento e che ha premiato il progetto che abbiamo presentato. Una campagna elettorale basata sui temi, sui contenuti, lasciando perdere gli attacchi personali e volgendo lo sguardo verso il futuro e la prospettiva. Adesso si riapre un'altra campagna elettorale in vista del ballottaggio e anche il momento di cercare alleanze. Più che altro è il momento di convincere anche chi non è andato a votare ad andare a votare, perché questa è la cosa più importante. Le persone che non interessino tanto i giochi, le alleanze varie, interessa soprattutto chi siamo, che vogliamo fare, le cose da fare, quando volerò farle. Quindi noi in queste settimane ci procureremo più di spiegare bene le cose che vogliamo fare e di riportare tanta gente che al primo turno non ha votato a votare. Si aspettava questo risultato? Assolutamente no, insomma. è stato un risultato che mi inorgoglisce e soprattutto voglio ringraziare veramente tutta la squadra, tutti i candidati e tutte le liste che hanno lavorato e tutti i cittadini che hanno avuto fiducia in noi. Adesso però c'è un ulteriore sforzo da fare il 25 giugno per completare l'opera.